ben ritrovati di nuovo su review in you il canale youtube che va a recensire insieme a voi e per voi prodotti tecnologici innovativi riguardanti la sfera domestica l'abbigliamento vi invito quindi ad iscrivervi a questo canale youtube come anche ad attivare la campanella delle notifiche perché prossimamente usciranno nuove video recensioni di prodotti interessanti e innovativi se poi vi piace risparmiare ottenendo prodotti estremamente scontati o addirittura gratuiti vi invito allora ad iscrivervi da subito al canale telegram offertoni scrivete questa parola su telegram troverete anche il maialino come foto profilo e seguite più avanti anche la community di facebook offertoni troverete su questo canale sulla community di facebook offerte e cali di prezzo riguardanti prodotti amazon.it selezionate tramite all'ausilio di grafici e portali come anche troverete codici sconto che mi vengono forniti dagli stessi venditori e farò anche dei giveaway vi ricordo che il canale telegram sarà attivo tra poche settimane come anche la community di facebook oggi vado a recensire insieme a voi una fila coltelli professionale marcato pato honor la fila coltelli arriva all'interno di questa scatola di cartone le indicazioni sono in inglese andiamo ad aprirla abbiamo un peso di 160 grammi dimensioni di 18,3 centimetri per 7,5 centimetri di larghezza per uno spessore di circa 3 centimetri e mezzo abbiamo dei materiali che sono fondamentalmente plastica dura poi c'è questa parte che dovrebbe essere di acciaio mentre la parte sottostante sembrerebbe essere un materiale spugnoso non è gommato però dovrebbe consentire comunque un miglior grip se la si va a posizionare su una superficie piatta diciamo un tavolo abbiamo poi tre fessure adesso vi vado a zoomare un attimo eccole qua tre fessure che se riuscite a leggere la scritta in inglese indicano la lama del coltello che è consigliato infilare per appunto affilare scusate il gioco di parole abbiamo fine quindi una fessura che serve per affinare una lama del coltello fine una lama del coltello media e una lama del coltello grossa all'interno di queste tre parti queste tre fessure possiamo notare che ci sono delle punte di diamante o comunque un materiale che serve ad affilare la lama dei nostri coltelli da cucina questa parte è rimovibile verso l'alto adesso non vado a rimuoverla comunque permette di svuotare appunto i residui derivati dall'affilatura dei coltelli c'è la possibilità appunto di impugnare la fila coltelli in questo modo e diciamo ciò che viene consigliato per affilare i coltelli è quello di tenere il coltello in verticale ho qui con me un coltello, la cucina quindi tenere il coltello in verticale e con la fila coltelli andare a fare questo movimento proviamo insieme cercate sempre di non tagliarvi come sentite comunque va ad affilarsi anche bene è indubbiamente un prodotto utile soprattutto se avete dei coltelli da cucina che non tagliano più bene va anche bene per affilare coltelli in ceramica il prezzo poi non è neanche così eccessivo un prezzo accessibile, vi lascio comunque il link in descrizione se volete acquistare questo prodotto o comunque farvi un'idea potrebbe essere magari un regalo da fare a vostro amico che è chef oppure a vostra madre vi invito inoltre ad iscrivervi al canale Telegram offertoni tutte in grande per rimanere aggiornati su offerte codici sconto di prodotti amazon.it